Millennials sono una generazione che ritiene che l'investimento debba assolutamente essere sostenibile, quindi sono attenti al sociale, vogliono che gli investimenti che loro facciano abbiano un riscontro positivo anche nella vita di tutti i giorni ed è questo il modo in cui noi investiamo sul fondo, quindi la scelta dei titoli che poi noi mettiamo nel fondo ha di base un'analisi di sostenibilità che facciamo prima ancora di costruire il portafoglio, quindi ogni singola storia che c'è in portafoglio ha un rispetto per tutti i criteri di sostenibilità ISG. Abbiamo da poco lanciato questo fondo che si chiama Fonditalia Equity Millennial, che è un fondo che ha l'obiettivo di investire in questa generazione, la generazione dei Millennials, che sono le persone nate tra il 1980 e il 2000, sono la generazione più numerosa che ci sia mai stata sulla faccia della terra, sono circa 1.8 billion di persone, quindi sono circa un terzo della popolazione mondiale. L'obiettivo di questo fondo è di cogliere a pieno il modello di spesa che questi consumatori nuovi hanno, che è completamente diverso dai modelli precedenti di spesa, quindi sono persone che sono molto attenti intanto al sociale, che è il motivo per cui siamo qui, hanno delle dinamiche di consumo e di comportamento completamente diverse e sono la prima generazione che è cresciuta fin dalla giovane età con Internet alla portata di mano. Quindi sono persone che preferiscono volare spendendo meno, sono persone che usano Internet per acquistare, sono persone che hanno un rapporto con il mondo online molto più forte di quello che ci è sempre stato in passato.